A Teramo sarà ballottaggio tra Gian Donato Morra e Gian Guido D'Alberto. Il risponso delle urne premia la quasi totale compattezza di un centrodestra che nonostante alcune diatribe interne e nonostante la caduta anzitempo della giunta Brucchi tiene botta e si conferma la coalizione guida in città. Morra approda il ballottaggio con un buon vantaggio avendo ottenuto il 34,62% delle preferenze contro il 21,13% di Gian Guido D'Alberto. A trainare il centrodestra in particolare la lista civica Futuro In di Paolo Gatti che sfiora l'11% seguita da Forza Italia 8,8% e Fratelli d'Italia 7%. D'Alberto incassa il contributo del Partito Democratico 8,6% e la civica Insieme Possiamo 7,75%. Così gli sfidanti del secondo turno del 24 giugno. E cambia la campagna elettorale diametralmente perché ci saranno due candidati sindaci e quindi dovremmo vedere da un lato un nuovo dialogo con i cittadini approfondendo alcune tematiche e anche raggiungendo quelle che sono le categorie o alcuni posti che non abbiamo raggiunto, anche se io credo di averli raggiunti tutti, ma trovare un'altra sintesi e anche continuare a parlare con i cittadini, con quelli che non sono andati a votare, magari oggi era una giornata bellissima, speriamo piova il 24 ma anche convincere anche altri elettori perché sette liste erano tante sulla bontà del progetto, ascoltarli, confrontarci. La politica è la cosa più bella del mondo se fatta con una prospettiva sobria, se fatta con senso di parte, con senso di fazione non serve a niente. Qui dobbiamo cercare di amministrare bene Teramo. Ma è veramente un risultato importante, tutt'altro che scontato, se consideriamo il risultato del 4 marzo che comunque dava l'area alternativa al centro-destra molto indietro, quindi abbiamo fatto un piccolo miracolo, adesso dobbiamo ripartire da zero con questa nuova elezione perché si tratta di una nuova elezione, con grande entusiasmo, recuperando le forze e siamo pronti. Questi 15 punti di distacco da morra non la preoccupano? Non mi preoccupano perché credo che comunque il ballottaggio sia una nuova partita, tra l'altro anche le ultime esperienze, sia delle amministrative terramane, ma pensiamo anche all'Aquila, dimostrano che comunque con il ballottaggio si apre una nuova storia. Tra l'altro la partita sarà tra la discontinuità che noi rappresentiamo e la continuità con la vecchia amministrazione che è rappresentata dalla collezione di centro-destra. Sarà inclusivo verso chi ha perso? In realtà io sin dall'inizio ho detto che non intendo fare apparentamenti politici in vista appunto di questo ballottaggio, quindi resta questa posizione. Quindi nessun apparentamento, si va avanti con questa coalizione che è la coalizione che vuole esprimere una discontinuità chiara, un progetto, una linea che ha manifestato fin dall'inizio. Quindi per quanto riguarda gli apparentamenti non c'è alcuna apertura. Non sfonda a Teramo il Movimento 5 Stelle laddove il candidato Cristiano Rocchetti porta a caso un risultato del 16,48% di gran lunga superiore alla lista pentastellata che si ferma al 13,14%. Superano la doppia cifra di percentuale l'ex assessore regionale Mauro Di Dalmazio di Al Centro per Teramo e Azione Politica 11,49% e Giovanni Cavallari della Bella Teramo 10,24%. Risultati ancora più marginali per Alberto Covelli, Abruzzo insieme e Popolari con Teramo che supera di poco il 5% e Paola Cardelli della sinistra che non arriva all'1%. E noi con il percorso che abbiamo fatto da soli senza allearci con partiti politici abbiamo fatto un grosso risultato. Da considerare anche le aspettative degli altri che comunque ci davano ad una percentuale che oscillava sul 2% al massimo al 3 e raggiungere il 5% da soli con 63 candidati che non avevano mai avuto esperienze politiche è un risultato assolutamente soddisfacente.